Era uno dei quartieri più belli di Padova e dei più quotati, brulicante di vita con le sue bancarelle e le sue botteghe. Qui sul canale del Piovego esisteva il piccolo porto fluviale, qui facevano capo i battelli che collegavano Padova a Venezia. Lo ricordano bene gli storici abitanti di Borgo Portello. Una volta sì, sono nata a Stanga e tutti i negozi qua, aperti, venimo qua a fare spesa, tutto adesso. All'incontro tra le vie Belzoni e Ogni Santi, ecco Piazza Portello e sullo sfondo l'omonima porta costruita nel 1518. Da qui la scalinata che fu anche immortalata in un dipinto del canaletto. Che cosa resta? In molti chiedono di restituire al Borgo la sua vivacità originaria, di farlo tornare a vivere con alberi e panchine. Un po' più vivo il sabato e la domenica che è abbastanza morto, non c'è proprio nulla di aperto e nessuna attività. Se ci fosse un po' una maggiore sinergia, diciamo, tra università e comune, non sarebbe male. Proprio in questa zona qui del Portello che si sta arricchendo dal punto di vista così anche culturale. Tutto cementato, vedi, qui hanno messo delle luci, perché non mettiamo delle alberi e delle palme? Sistemare questa piazza che in realtà non è fruibile, non ci sono panchine, non ci sono alberi, non c'è ombra, non c'è niente. Più duri gli storici commercianti che stanchi delle solite passerelle ora chiedono un cambiamento vero. Dopo via Anelli che si è spostata si è un po' divulgata, la prima cosa è il Portello. Droga? Tantissima. Ma quello che sta succedendo lì nel Viale Colombo è necessariamente un delinquere? Sì. Droga? Beh, poi vanno fuori gli ubriachi e si fanno incidenti. Grazie. 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 Grazie.